Musica Possiamo dire con grandissima soddisfazione che Shabbaca 2017 è stata una grande festa, una grande festa di pubblico prima di tutto e ovviamente di tutti coloro che l'hanno animata. La sovraia Mannelli è stata per tre giorni al centro di un dibattito importante sui viaggi sul Mediterraneo e sulla Calabria. Abbiamo in qualche modo lanciato anche dei segnali importanti per il futuro di questo territorio. Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e dare appuntamento al prossimo anno. Grazie a tutti.